Ciao, nuovo video haul, vi faccio vedere che cosa ho acquistato da Lilla Pua, Natura Si e Beauty Star. Direi di iniziare subito col farvi vedere gli acquisti che ho fatto da Lilla Pua, dove ho voluto prendere una nuova maschera per capelli, sapete che mi trovo benissimo con le maschere della Omnia Laboratoire, ma volevo cambiare un pochettino. E allora ho voluto prendere per 3,49€ in offerta questa della Camomilla Schultz, maschera ristrutturante con camomilla, pappa reale e germe di grano, senza parabeni, siliconi, coloranti chimici e oli derivati dal petrolio, 100% camomilla bio, capelli secchi e trattati, sono 300 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi e questi sono gli ingredienti. Non vedo l'ora di utilizzarla e vedere come si incomporterà sui miei capelli, voglio vedere se è veramente buona come sento dire, anzi fatemi sapere se voi avete provato qualche prodotto di questa marca e come vi ci trovate. Poi della Geomar ho voluto prendere questo scrub cremoso delicato per il viso con pomice bianca e bio fiore di altea, 95% di origine naturale, ha 150 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi, questi sono gli ingredienti, non ha coloranti, siliconi e parabeni e l'ho pagata a 4,90€ a prezzo pieno, ne ho sentito parlare benissimo da Martina qui su youtube, è 91MartinaS, ti mando un grandissimo bacione tesoro, mi ha incuriosito moltissimo quando ha parlato di questo prodotto e allora ho voluto prenderlo anch'io, adesso devo finire degli altri prodotti ma appena li finirò comincerò ad utilizzarlo e poi vi farò sapere se è buono o meno. Poi per 6,90€ in offerta ho voluto prendere il mascara Vamp della Pupa ma nella colorazione 400 quindi la viola, questo è il packaging del mascara, l'ho provato in negozio e mi piace veramente tantissimo, specialmente sugli occhi scuri trovo che questo tipo di viola risalti tantissimo il colore degli occhi non vedo l'ora di utilizzarlo sulle mie ciglia e poi vi farò sapere se mi piace o meno però sono veramente curiosa di provarlo. Poi per 6,90€ ciascuno era in offerta ho voluto prendere queste due tinte barra gloss della Maybelline, questa qui che è un color malva, veramente molto bello, sono coprenti dopo due o tre passate, questo qui è il 725 Caramel Infused si chiama e quest'altro invece che è un color nude ed è il 720 Nude Illusion. Non vedo l'ora di utilizzarli. E poi l'ultimo prodotto preso da Lila Bois è stato il Velvet Soft della Shoal. L'ho trovato in offerta perché ho la carta della Lila Bois e l'ho pagato invece che 24,90€, l'ho preso a 14,90€. Una promozione fantastica secondo me, così finalmente posso provarlo anch'io, anche perché ne ho sentito parlare veramente bene di questo prodotto per i piedi e vediamo se sarà buono o meno anche sui miei vini. Così se volete poi vi farò una bella recensione al riguardo. Poi da Natura Si ho preso solo un prodotto e ho voluto prendere questo doccia crema olio rigenerante per un effetto rassodante della Lavera. È la prima volta che provo un bagnoschiuma di Lavera, non vedo l'ora di utilizzarlo e poi vi farò una recensione se volete. E questo ha 150 ml di prodotto. Questi sono gli ingredienti. Eccolo qui. E l'ho pagato 4,95€. Non vedo l'ora di utilizzarlo. Ho sentito il profumo ed è veramente buonissimo. Ha un profumo molto particolare che mi piace tanto e quindi appena finirò gli altri bagnoschiuma che ho, questo sarà il prossimo. E poi gli ultimi due prodotti che ho preso sono stati da Beauty Star e ho voluto prendere un'altra tinta barra gloss di Maybelline, però questa volta è di questo color viola. viola. Veramente bellissimo. Ed è il numero 135 e si chiama Raspberry Rhapsody. È veramente fantastico. Troppo bello. Anche perché non avevo un colore del genere tra i miei gloss, quindi felicissima di averlo preso. E quello l'ho pagato 8,10€ perché avevo una promozione con la carta. E poi l'ultimo prodotto ho voluto prendere della Nivea, della linea Pure Natural, la crema antirughe giorno con bioolio di argan e bioestratto di bardana. Questi sono 50 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi e questi sono gli ingredienti. Vi faccio vedere anche la confezione che è veramente molto bella. Eccola qui, si presenta in questo modo. Molto carina, piace molto. Non vedo l'ora di utilizzarla anche perché sto vedendo che ci sono delle rughettine un po' fastidiose qui sulla fronte, quindi inizio un po' a combatterle. Bene, questi erano tutti i piccoli acquisti che ho fatto in questi tre posti. Fatemi sapere se voi avete provato qualche prodotto che vi ho fatto vedere e come vi ci trovate, oppure se avete fatto qualche altro acquisto e avete fatto dei video. Lasciatemeli pure qui sotto nei commenti che sarò ben felice di venire a vederli. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato di compagnia. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!